Mi fa molto piacere questa breve intervista perché è l'occasione per me di rappresentare il mio dialetto attraverso le mie poesie dialettali. Ho iniziato senza conoscere la metrica poetica, poi un bel giorno ho avuto la possibilità, la fortuna di incontrare il professor Marcello Martinelli che mi ha edotto e mi ha portato a questo livello per cui la mia opera rappresenta circa 63-64 poesie dialettali che intitolate Una vita da Cruchel e il Cruchel per chi non lo sa è il gabbiano. Come vi posso dire, diciamo nell'alto è il medio adriatico e il gabbiano nel gergo marinaresco si chiama Cruchel, al plurale Cruchei. Un libro dedicato quindi al nostro dialetto, alla lingua pesarese che tanto ci sta cara. L'attività della sua associazione, la Società Operata di Mutosocorso, ha ripreso da poco con una serie di appuntamenti davvero interessanti. Sì, possiamo dire che ovviamente la società è una società gloriosa che è nata nel 1862, però naturalmente non ha più le finalità di allora, ha altre finalità, quelle della solidarietà, quella dell'occupazione del tempo libero per i soci. Alle sue spalle c'è un illustre passato della Società Operata di Mutosocorso. Il nostro caro Gioacchino Rossini, che è stato il primo presidente onorario, è un onore avere questa illustre figura. E come potete vedere alle nostre spalle c'è una sua lettera autentica, con la quale lui ringrazia l'allora presidente, del presidente di quei tempi, per l'onorificenza ricevuta.